Gentili telespettatori, buona giornata. Chiara Ferragni, i marchi in fuga a gambe levate, contratti milionari a rischio. Quanto potrebbe perdere la marketing influencer di Borse e Rossetti? Ecco, non si placano le polemiche sul caso Ferragni. La caduta della dea di Instagram osannata, riverita, bella, intelligente, fa un sacco di soldi e fa tanta ma tanta beneficenza. Una persona davvero buona, così buona che è indagata per truffa aggravata e la procura parla di un disegno criminoso. A rischio ci sarebbero le royalty di Fenice, la società che gestisce in licenza il brand Chiara Ferragni. Non si tratta di bricele perché solo nel 2021 da bilancio le royalty valevano 4,6 milioni, quindi rischia comunque una perdita di fatturato per il momento di 5 milioni di euro all'anno. Perché dopo anche che le cartiere Paolo Pigna hanno scelto di interrompere i rapporti commerciali che era uno dei brand che rendeva di più al marchio Chiara Ferragni, infatti ha provocato la reazione dell'influencer che dice ah ma queste sono strumentalizzazioni eccetera eccetera, tribunali, avvocati, Quintana, Setta. Alla fine la reazione di Chiara Ferragni a Pigna che se ne va significa che Pigna era la gran parte del fatturato di questa marketing influencer. Bene, in una nota diffusa Fenice contesta la legittimità della decisione di Pigna definita come strumentale contraria al dovere di buona fede, ma io la mia opinione è che Pigna ha assolutamente ragione come clausola contrattuale, c'è la fine del contratto quando la reputazione dell'influencer nella società viene compromessa. Quindi questo è il classico caso quando le aziende possono cancellare un contratto per giusta causa, cioè la reputazione dell'influencer è cambiata e qui è cambiata in peggio. Quindi Pigna esce dal contratto come stanno facendo praticamente quasi tutte le aziende, vedrete che arriverà ad azzerarsi il suo portafoglio di partner commerciali azzerando anche il suo fatturato. Perché parliamoci chiaro, quello che lei fatturava con Instagram non è che Instagram la paga per fare i post, non è Instagram che paga, non sono i social che pagano, o meglio, i social ti pagano, ma ti pagano perché ci sono delle pubblicità sul tuo canale, sulla tua pagina. Senza le pubblicità il social non ti paga assolutamente nulla. Quindi se le aziende non vogliono più avere a che fare con te, in nessun modo il tuo fatturato diventa pressoché zero. Magari c'è qualche piccola azienda che dice noi invece siamo interessati, però tu poi sei costretto ad accettare quello che queste aziende vogliono darti perché non hai più la forza contrattuale nel dire ah un mio post vale 100.000 euro. A quel punto ti devi accontentare di un'azienda che ti dice ti do 1000 euro se fai un post, prendere o lasciare. Ecco, quindi il suo valore è drasticamente precipita. Bene, per quanto riguarda la società di Ferragni e amministratrice delegata lancia anche un monito sottolineando come analoghe iniziative di tutela verranno prese nei confronti dei soggetti che abbiano messo in atto comportamenti in violazione dei contratti di collaborazione in essere e pertanto degli interessi di Fenice. Quindi arriva lei a minacciare le aziende se se ne vanno, ma sono minacce ridicole, nel senso guarda che se te ne vai ti faccio causa. E' incredibile perché le aziende hanno tutto il diritto di non voler più una pubblicità con lei perché è diventata controproducente. No, guardate, ve lo dico da ex direttore commerciale che questi contratti li conosce. Sono clausole contrattuali. L'influencer è un intermediario tra il cliente finale e l'azienda che produce. L'influencer è lo sponsor. E' come quando in televisione c'è il famoso attore che sponsorizza un qualcosa. Se la reputazione di questo famoso attore viene incrinata, non so, finisce in carcere perché ha commesso un reato, ovviamente saltano tutti i contratti per giusta causa. L'impero di Ferragni finisce? Ricordatevi che tutto ha un inizio e tutto ha una fine, qualsiasi cosa. Chi resta in affari con l'influencer per il momento? C'è l'accordo quinquennale con Monna Lisa per creare abbigliamento e tute per bambini, risulta poi ancora testimoni al Pantene, anche se si diceva di no, mentre l'accordo più recente sarebbe quello siglato nel 2023 con Arval Cosmetici. Dal 2021 risale anche la partnership con Nespresso, con tanto di Temporary Caffè aperto a Milano e una collezione in edizione limitata presentata a marzo 2023. Anche il gruppo AF ha un accordo di licenza con Chiara Ferrani, nel dettaglio un accordo di licenza pruennare con Velmar, società del gruppo specializzata in intimo e costumi. E poi tra il 2020 e il 2021 sono poi state strette licenze con Swinger per la gioielleria con Morellato, oltre che con Mofra che si occupa di calzature e Nanan specializzata in prodotti per l'infanzia. Magari qualche azienda resterà con lei pensando comunque di averne un beneficio nelle vendite, però l'impero Ferragni ormai è destinato a il declino inesorabile, ma ci potrebbero essere sorprese dai tribunali anche nelle prossime settimane. Nuove indagini, nuove iscrizioni nel registro degli indagati per altre faccende similari. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti, grazie a tutti e arrivederci a presto. Ricordatevi che c'è anche Tele Italia Seconda Rete dove trovate video come questi, poi questi video dei due canali Tele Italia e Tele Italia Seconda Rete sono condivisi anche sui social da Facebook, Instagram, no Instagram no, scusate lì non si possono condividere, ma X, Triaz, Tinder e poi Whatsapp e Telegram, grazie a tutti, arrivederci a presto.